Seconda giornata di rialzi per il mercato azionario asiatico con il valutario che si stabilizza dopo il deciso calo che ha condotto l'indice Morgan Stanley della regione Asia Pacifico a perdere oltre il 10% fino ad ora nel mese di maggio. Maggiori informazioni arrivano in collegamento internet a Tokyo con Alessandro Lippe. Ciao Alessandro. Buona giornata Luciano, i segnali incoraggianti arrivano dalla ripresa dell'export delle principali economie del continente asiatico in attivo il bilancio delle partite correnti della Corea del Sud e quinto incremento di fila per le esportazioni in Giappone. Uno stimolo agli acquisti giunge anche dalle dichiarazioni di Mark Mobius, il presidente di Templeton Asset Management che esclude una fase di bassista dei mercati e spiega che a suo giudizio stiamo assistendo solo ad una correzione in un mercato che comunque rimane rialzista. Il Nikkei a Tokyo termina in positivo, più 1,23% trenato dal settore dei consumi e l'industria dopo il dato che conferma la ripresa dell'export. Bene titoli finanziari e le società armatoriali ad Hong Kong riprende quota il comparto energetico a Shanghai per via della rinnovata fiducia sulla capacità dei governi europei a risolvere la crisi del debito. Una situazione, quella attuale, che con tutta probabilità impedirà per il momento qualsiasi ipotesi di una stretta monetaria in Europa. Il vecchio continente è il primo mercato di sbocco per l'export cinese, circa il 20% del totale e secondo le stime della banca Credit Suisse un calo proprio del 20% dell'export ridurrebbe la crescita del PIL cinese di almeno un punto percentuale. E c'è da dire che la moneta unica ha perso il 15% del suo valore quest'anno al cambio con lo Yuan e continua a minare la competitività dell'export. A proposito di commercio, anche la Corea del Sud riesce a mantenere un attivo negli scambi commerciali, una dinamica che premia il Yuan coreano al cambio col dollaro in guadagnia di quasi il 3% quest'oggi al cambio col dollaro dopo il crollo d'inizio settimana al cambio proprio con il biglietto verde. Luciano. Allora, a proposito di valute e di commercio estero, in Giappone lo Yuan forte sembra non minacciare la sostenibilità delle esportazioni. Il Giappone e l'Asia anzi stanno guidando la ripresa delle esportazioni a livello globale. Sì, un export, quello in Giappone, che rimane l'elemento decisamente trainante, è la crescita dell'economia nipponica, più 40% nel mese di aprile, grazie alla domanda di automobili e di semiconduttori. Si tratta del quinto incremento mensile consecutivo, un ritmo che secondo gli economisti potrebbe rallentare, tuttavia le esportazioni continueranno a segnare un'espansione rispetto all'anno scorso, quando c'è a dire che i valori subirono addirittura una contrazione. Interessante notare come sia la domanda di auto, guidare la ripresa, in particolare negli Stati Uniti, più 35%, malgrado la cattiva pubblicità della Toyota nel principale mercato mondiale delle quattro ruote, a causa delle anomalie. Uno Yen che decisamente non favorisce le merci giapponesi, una valuta comunque che si sta stabilizzando sul dollaro a quota 90, rimane invece massimo in otto anni sulla moneta unica. La scorsa settimana il governo di Tokyo ha adesso noto i dati sulla crescita del PIL, più 1,2% nei primi tre mesi dell'anno, con i paesi emergenti asiatici a trenare la domanda, in una fase per la seconda economia mondiale che il Fondo Monetario Internazionale giudica il primo tentativo vero e proprio di uscire alla recessione per il paese del sollevante. Luciano. Beh, è tutto, dunque grazie mille Alessandro, adesso è prima serata a Tokyo, così siamo intorno alle 6 del pomeriggio. Dunque buona serata a te e arrivederci a domani. Grazie, buona serata. Ciao.